Ciao a tutti ragazzi, un altro gioco degli Stickman Escaping the Prison Eh sì, non va in ordine di logica, li faccio a caso, più mi che trovo faccio Bastardo Non ti prendi le esperienze, sott. Abbiamo già già che ho scelto per qualcosa di usato, non? Sì, sì, ovviamente ho scelto, se non ho scelto ho scelto il mio lavoro, non voglio perdere il mio lavoro Ah, non ha controllato il pacco Ok, vediamo, ovvio la classica torta E poi, ok La soluzione più logica, i teletrasporti E vediamo dove andiamo Ok, siamo scappati Eravamo scappati Eh già E Energy Drink, vediamo cosa fa N-R-G Cosa la troca Si è fermato il tempo Ah, siamo fortissimi Si è fermato il tempo Oppure siamo noi che siamo forti, velocissimi Guarda, 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 dove? Guarda la vena sulla testa, proprio Una roba che Eh, credo che siamo riusciti a scappare Ti siamo scappati Però Eh, infarto Cazzo Cosa ha scritto? Ah Effetti collaterali Nausea, mal di testa Rapido battito cardiaco Le possibilità di Possibilità di attacco cardiaco Ah, ok Quella più logica Quella più bastarda Ah, era una padella prima Vediamo No, non va bene Non va decisamente bene Ecco Male Ehm Cellulare Chi chiamiamo Settembre Non mi ricordo Ah, un secondo processo, ho capito Non c'era qualcuno Non c'era qualcuno Cosa c'era? Cosa c'era? Che sti capelli? Cosa c'era? Cosa c'era? Non è ovvio? Cosa c'era davvero? Cosa c'era davvero? Ho proof Che il defendente Non c'era il suo cazzo Non c'era il suo cazzo Cosa c'era? E non metto i sottotitoli Perché non so cosa dicono Ah Eh, prova, prova, prova Questo 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 Ok Eeeh, quale Ah, sì, sto qua What is this? It's evidence And how exactly does this prove anything? Well, I Merda I was just kidding Let me try This is no time for jokes I see no reason to further prolong this trial I find the defendant Henry Stickmin Merda Eeeh Diri qui quale Non so, non lo so Questo, non lo so Ah, ho capito Non lo so, vado a caso It's evidence And how exactly does this prove anything Merda, un altro I was just kidding, let me try This is no time for jokes I see no reason to I find the defendant Henry Stickmin Ecco, colpevole Questa Is, is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me If the defendant really was hiding in this bag, then How did you tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside But then, how did he do it? Che sa da anime questa cosa? He didn't What thought are you saying? I'm saying my client wasn't hiding in that bag at all He was stuffed in there By this fairy witness As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating While he was in the bag, he was unconscious This is absurd The witness was attempting to dispose of the body He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others But, but why would he do that? Why? To dispose of the body, of course There are millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found But unfortunately for the witness His victim woke up and tried to escape from the tomb He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over So he came back to haunt him now You can't, you can't, you can't, this, you can't be happening to me He said, I wanted to understand, he didn't have talked about That certainly was an interesting trial However, I'm now ready to deliver my verdict I find the defendant, Henry Stickman Ok, we're not culpable Ok, we're not culpable Yeeeeh, we've been vinto Ah, and we're going to rub it Ah, it's already done Ah, it's already done Well, obviously, another thing Eeeh 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 So if we wanted to try We want to try Oh Eeeh Which I could Eeeh So In다�'ve tard Board I I che avrei fatto da capo e riproviamo con come si chiama il pile di porco sbagliato 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 e su 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 no e riproviamo allora giù funzionato ma quella più logica non era quella più logica se allora vuole contro il muro scopo e mi è scappato un attimo dai ehi giù bene fin qua ha funzionato ora se non sbaglio super il muro come super il muro e vabbè si matrix adesso sa di far west infatti ma quelli di da sospetti che ah no tutti che mi puntano no ho cliccato dai da capo funziona ora super il muro la matrix con l'area se l'istordito bene via 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 ora se di nuovo il bom vecchio far west ok tieniti pronto sono tutti che mi puntano guarda caso aspettano che io faccia qualcosa poi non lo spariamo direttamente avevo cliccato puttana fail fail 9 dai dai sono stanco di riprovare oh 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 puttana è di nuovo qui ok devo tenermi pronto devo tenermi però stavolta devo stare attento ma devo avere altre volte cazzeggiato stavo scherzando ho fatto giustare anche le altre volte ah ah ho trovato siiii ok e la madonna ma qui la logica va a farsi fottere ecco ecco siamo fuggiti e basta siamo fuggiti sì bene addirittura su una volante indovinate di nuovo l'unica che non abbiamo fatto è questa finestre ovviamente poi scendi all'assassins creed e vabbè ma dammi ascolto eh sì sempre questa dai cosa dell'accello allora ma quanto tempo ci metti a tagliarne uno così? si vabbè cos'è una motosega che va via così facilmente oh 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 no ho sbagliato mi sono dimenticato di dire il serenente guardia che stava arrivando ma da dove scusate no 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 si siamo salvi meravigli meravigli oh porca putt non è messi senza scapparti mhm le granate ma ma qualcuno qualcuno mi può spiegare come funziona qua se allora se la sedia a mezzare tutto quel che è di qua è tutto buio io 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 no ah era la parte giusta io volevo quella sbagliata volevo farvi vedere tutte ah si infatti era la parte sbagliata ecco la sedia la sedia si allora di qua ah ciò finivamo nel nel vitiratore mhm in cassa quella più logica sarebbe il pari cadute quella meno logica sarebbe il jetpack quindi ah mi ha spaventato ah mi ha spaventato ah 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 allora questo eh mi stavo chiedendo ma non fa male quelle mani eh 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 no non lo siamo che peccato eh pari cadute o pari cadute è quella più logica sì sì bravo non era un pari cadute eh ma allora 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 ti lo provo ma cosa vuoi fare con gli sturi ecco mi dite un'interessa che magari ti hanno sturato venticensi non dico che sia la meno logica ma la meno la meno la meno bella ma non sono niente fatta e beh è finito è finito qui ragazzi cosa volete che vi dica ma anch'io mi aspettavo un po' di più per fare l'altro se non sbaglio è durato abbastanza di più quindi vabbè finiamo qui finiamo qui e ci vediamo al prossimo che mi sa che sia neanche un altro di questi qua degli Stigman quindi ve lo poterò al primo possibile ci vediamo al prossimo ciao a tutti